Cosa vuol dire anzi in italiano? Anzi è una parola speciale in italiano che si usa per correggere o rafforzare qualcosa già detto. Nel caso di correggere un esempio è cosa vuoi da bere. Prendo un bicchiere di vino. Ah no, anzi un bicchiere di birra. Ti sei corretto, hai cambiato opinione. Un bicchiere di vino? No, anzi un bicchiere di birra. Nel caso di rafforzare, io vorrei visitare tutta l'Europa, anzi vorrei visitare tutto il mondo. Mi piace la pizza, ne mangerei una al giorno, anzi una all'ora. Puoi esagerare per enfatizzare in una situazione di vita quotidiana. Tu chiudi la porta a chiave quando esci? Sì, anzi ho messo pure l'allarme. Chiudere a chiave è un certo livello di sicurezza. Installare un allarme è un livello superiore. Tu non solo chiudi a chiave la porta quando esci, ma accendi anche l'allarme. Non solo chiudi la porta, ma anzi accendi anche l'allarme. Si usa spesso, è una parola né formale né informale, si può usare in tutte le situazioni per correggere o rafforzare qualcosa già detto. Grazie. Grazie. Grazie.